Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Il settimo turno del Norway Chess lascia ancora tutto aperto per la vittoria finale. Ci regala alcune partite straordinarie come l'Armageddon tra Karzen e Firuja che stiamo per guardare insieme. Una partita decisa da una combinazione micidiale, ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Nicola, Joe, Malkit e Storie di un Gamer, per 4 nuovi abbonati alle mie lezioni che ormai, lo sapete, si trovano qui sul canale in una playlist dedicata a soli 2,99€ al mese. E poi lasciatemi ringraziare Ludic, sponsor di questo video e del canale. Ludic è una grande azienda italiana che produce giochi di qualità non solo divertenti ma anche utili per tenere sempre la mente allenata. Quindi questo ci aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Il gioco che vi presento oggi è Password che si gioca da 2 a 6 giocatori. Crea la tua Password e prova a scoprire la Password dei tuoi avversari. Un gioco di parole strategico nel quale vince chi compone Password indecifrabili. E naturalmente vi lascio tutti i link in descrizione e nel primo commento sotto al video. E adesso non dimenticate il like e partiamo. Perché Magnus Karzen di bianco apre la partita con E4, Firuja risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in F6, la difesa russa. Perché ricordiamoci che nell'Armageddon il nero vince anche con la patta. E allora quale difesa avrà pensato Firuja migliore della difesa russa per bloccare un po' tutta la posizione. E allora Karzen cattura il pedone. Ci dobbiamo ricordare sempre che il nero prima di ricatturare deve scacciare il cavallo. Infatti arriva D6, cavallo torna indietro in F3 e adesso anche Firuja cattura al centro, cavallo cattura in E4. Ora sono due le continuazioni principali. La spinta al centro D4 a Modianande, che oltretutto è la continuazione principale. Interessantissima, la seconda mossa più giocata, cavallo in C3. Cosa vuol fare? Vuole spingere il nero a cambiare i cavalli, riprendere di pedone, arroccare lungo per il grande attacco sul lato di re. E infatti questa variante si chiama attacco Nimzovic. E invece Karzen gioca qualcosa di diverso. Alfiere in D3, attacca il cavallo, il cavallo torna indietro in F6, arrocco corto per Karzen e anche il nero deve arroccare. Allora arriva Alfiere in E7, H3 controllo sulla casa G4, arrocco corto anche per il nero e ora che succede? Succede che questo Alfiere, che sta bloccando il pedone centrale, va naturalmente riposizionato. E allora 95 volte su 100, in questa posizione il bianco gioca C3 per portare questo Alfiere in C2. E invece Karzen trova qualcosa di diverso, di molto interessante. Torre in E1 e quindi centralizza la torre. E questa torre ci sta bene sulla colonna centrale aperta. Vuole portare l'Alfiere non in C2, bensì in F1. E allora che cosa potrebbe fare Firuja? Firuja invece di sviluppare il lato di re o giocare D5, che mi sembra forse la risposta più appropriata, decide di seguire le idee di Karzen. Arriva torre in E8, Alfiere in F1 e la partita diventa originale. Alfiere in F8, torre per torre. La donna ricattura è Karzen, che spinge per primo in D4. Si nota subito che il bianco ha un leggero vantaggio di spazio. Firuja gioca H6, arriva anche C4. Ora qui naturalmente bisogna sviluppare, quindi Alfiere in F5. Cavallo in C3, cavallo in C6. Quindi, donna in B3 che cosa fa? Attacca quella casa lasciata libera dal movimento dell'Alfiere che ha cambiato lato. E allora come mai Firuja non giocherà cavallo in A5, che attacca e protegge? Ve lo faccio vedere subito. Perché cavallo in A5, che a colpo d'occhio sembrava buona, in realtà porta grandissime perdite di tempo. Il bianco chiaramente prende l'iniziativa. Come mai? Perché dopo donna in B4, che attacca sia il cavallo e continua ad attaccare il pedone, bisogna giocare B6, e allora arriva D5, che gli toglie la casa C6 al cavallo. Cavallo in B7, Alfiere in E3. Guardate quante mosse di cavallo. Cavallo in C5, donna in A3. Sta per arrivare addirittura a B4, il povero cavallo. Sarà costretto di nuovo a muoversi. E quindi mi pare che il bianco abbia guadagnato dei tempi dopo questa manovra del nero. E allora, per proteggere il pedone, Firuja gioca donna in C8. Non solo protegge il pedone, si connette anche con l'Alfiere. Allora, l'ultima, diciamo, mossa di sviluppo per liberare la torre. Alfiere in E3, ma anche, forse meglio, Alfiere in F4, sono sicuramente buone. E invece Karzen spinge subito in D5. Cavallo in E5. Qui si minaccia il cambio, quindi cavallo per cavallo. Il pedone ricattura. Certo, questo, vedete, è un pedone in teoria leggermente debole. E allora Karzen gioca alfiere in E3. Cavallo in D7 cosa fa? Protegge il pedone. E controlla insieme all'Alfiere l'importante casa C5. Allora, torre in C1. Arriva B6. Cavallo in A4. Karzen prepara questa spinta in C5. E allora, forse, torre in B8 non è male, anzi è buona. Altra mossa buona. Alfiere in D6. E allora Karzen spinge in C5. E qui bisogna fare qualcosa. B per C5. Il cavallo ricattura. L'intermedia. Torre in B8. Ora, fermiamoci un attimo, perché a parte il fatto che bisognerà probabilmente spostare la donna. o no, ma il discorso, da un punto di vista strategico, è che entrambi i giocatori hanno dei danni alla struttura pedonale. Karzen si ritrova col pedone di isolato. Ma anche Firugia ha due pedoni isolati. Allora, in questa posizione, donna in C3 sicuramente buona. E invece Karzen trova una continuazione molto interessante che può mettere in difficoltà il nero. Giocherà infatti Alfiere in A6. Qual è il problema adesso? Il problema è che c'è solo una mossa che tiene il nero in partita. E noi siamo arrivati al nostro quizzone. Cosa giochereste al posto di Firugia? Allora, mettete pure in pausa se volete, ed a voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Vediamo come mai non si può andare dritti per dritti Torre per Donna. Guardate che succede. Dopo Torre per Donna, se vedete, la donna è stata catturata con la torre che vale due punti in più di un pezzo leggero. E allora arriva Alfiere per Donna. E guardate, il cavallo due volte sotto attacco. E dopo cavallo per cavallo, il bianco non solo si riprende la qualità... Ora sembra che il nero possa vincere un pezzo. Attenzione perché questo è sospeso sotto attacco. Ma dopo Alfiere in C8, il bianco, il pezzo, se lo riprende, rimane, come vedete, con la qualità di vantaggio. E allora dopo Alfiere in E6, c'è soltanto un'idea buona. E qual è? E' quella di attaccare la donna, non con la torre, perché si perde la qualità, ma con un pezzo leggero. E allora Firugia dovrebbe giocare cavallo per cavallo in C5, che è l'unica mossa che lo tiene in partita. E adesso Alfiere per cavallo, la donna che si sposta, la donna che si sposta in A3, con equilibrio, seppur io continuo a ritenere il bianco leggermente preferibile. E invece ritorniamo a questo momento critico, guardiamo che cosa succede, perché Firugia sposta subito la donna, Carzen trova una combinazione micidiale. Perché gioca cavallo in B7, e che cosa fa questo cavallo? E' vero che si è auto-inchiodato sulla donna, ma è vero anche che non c'è niente che lo possa attaccare di nuovo, e oltretutto è già protetto due volte, bloccando la torre. Minaccia di catturare in A7, e allora per salvare il pedone Firugia gioca cavallo in B6, ma arriva un'altra mossa fortissima, che è torre in C6, secondo attacco sull'Alfiere, e che succede con donna in E7, non giocata da Firugia? Succede che arriva a cavallo per Alfiere, naturalmente c'è la torre che protegge, e allora bisogna riprendere di pedone. Donna in B4, il pedone centrale sicuramente cade, e il bianco si ritrova in attacco con un pedone di vantaggio, eppure con la coppia degli Alfieri. Allora, dopo torre in C6, Firugia prova cavallo in C8, nuova protezione sull'Alfiere, e protegge anche il pedone, ma arriva il cambio di Karzen, cavallo per Alfiere. Il cavallo ricattura, gli è rimasta la donna sotto attacco, donna in C3, nuovo attacco sul pedone, Alfiere in E4, ma qui arriva torre che cattura in C7. Questa posizione, quindi Karzen ha vinto un pedone importantissimo, in questa posizione Alfiere per D5, è l'idea in questa brutta posizione forse migliore, e invece arriva donna in A4, attacca l'Alfiere e attacca il pedone, perché Firugia si vuole rifare sul pedone, l'Alfiere torna indietro in F1 e farà anche da scudo a re se necessario, donna che cattura in A2, però è l'ultimo errore, perché guardate Karzen cosa gioca, donna che cattura in E5, attacco doppio. Attacco doppio, Firugia dopo 29 mossi abbandona, come mai? Non si poteva catturare il pedone centrale con la donna e proteggere tutto? Guardate che cosa sarebbe successo. Dopo donna che cattura in D5, donna per donna, l'Alfiere ricattura, torre in D7, e qui cade sicuramente un pezzo. E allora Karzen magari non sta riuscendo a trovare la vittoria a tempo lungo, ma negli Armageddon, nelle partite più veloci, è micidiale come al solito. Karuana invece ha pattato la partita classica, ma poi ha perso l'Armageddon, e la classifica, quando mancano ancora due turni, si assottiglia ancora. E allora continueremo a vederne delle belle. Io aspetto ancora una vittoria del grandissimo Karzen a tempo lungo. Se non siete ancora iscritti al canale, vi piacciono questi contenuti, e volete guardare insieme a me tutti i migliori tornei di scacchi, allora vi consiglio veramente di iscrivervi, anche per aiutarmi a far crescere il canale. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!